Nell'ottubre del 1935 il premio Nobel per la medicina e fisiologia viene vinto da Hans Speyman. Embriologo sperimentale tedesco, passa alla storia per aver sperimentato che durante la gestazione i diversi tessuti dell'embrione si sviluppano a vicenda, cioè inducono le cellule a diventare tessuti e organi diversi. In uno dei suoi esperimenti più famosi, condotto insieme alla sua dottoranda Hilde Mangold, Speyman trapianta un frammento di embrione di salamandra in un altro embrione della stessa specie e della stessa età. Il risultato è una salamandra bicefala. Questo porta a pensare che il frammento trapiantato ha organizzato e sviluppato nell'ospite un abbozzo di embrione secondario. Il frammento embrionale trapiantato viene chiamato organizzatore o anche fattore di Speyman ed è un ammasso di cellule embrionali di anfibio che inducono lo sviluppo del sistema nervoso centrale. In esperimenti successivi, Speyman tentò di trasferire il nucleo di una cellula in un'altra. Fu il primo a cimentarsi in quella che oggi viene chiamata clonazione, ma all'epoca non poté portare avanti l'esperimento per mancanza di strumenti adeguati alla manipolazione e alla dissezione cellulare.